Siamo con il Presidente dell'Associazione Percorsi per parlare di questa protesta che state attuando questa mattina a Pescara. Perché siete qui dinanzi all'Assessorato della Sanità? Noi siamo qui per premere ancora una volta sull'Assessore e sulla classe politica per rappresentare che il percorso riabilitativo della psichiatria in Abruzzo non ha bisogno di molti soldi, ha bisogno di organizzazione. Abbiamo le risorse, ci sono le risorse. Non chiediamo strutture dove rinchiudere i pazienti, ma chiediamo strutture dove i nostri figli possono avere il loro percorso di vita. Maurizio Massimini, Borsa e Lavoro di Lanciano, voi siete questa mattina qui a Pescara per protestare e chiedere cosa? Che i capi di partimento facciano anche gli interessi di coloro che comunque vivono il problema sulla propria pelle. Che i capi di partimento insieme alla politica trovassero un tavolo in cui il confronto sia un confronto leale, sincero e di costruzione. E costruttivo. Sappiamo che il problema della psichiatria è un problema complesso e che spesso richiede il confronto con le parti che vivono direttamente il proprio disagio. Avremo un nuovo colloquio il 26, saremo presenti, di nuovo torneremo e vogliamo che queste leggi le scriviamo insieme. Quindi voi vi aspettate una risposta da parte della regione e dell'assessorato alla sanità? Beh, certo. Il lavoro è vita. Senza lavoro non si vive. Siamo qui oggi a manifestare perché è un buco nero questo che sta succedendo oggi. Senza lavoro e senza niente. Senza diritti. Ci hanno tolto i diritti. Siamo i primi che abbiamo lavorato e dobbiamo incominciare noi a rilavorare e poi verranno gli altri a rilavorare. Perché siamo noi che abbiamo fatto strada, sappiamo lavorare e poi gli altri devono essere inseriti dopo di noi. Noi stiamo a zero. Noi i nostri familiari ci sopportano. Io prendo 5 medicine alla sera e 2 la mattina. Me lo dica lei. E quelli costano. Costano al mese.